L'Open Day al GP2 Oggi inizia la nuova vettura del GP2 e soprattutto la presentazione di tutti i corsi che si succederanno all'interno di questo nuovo centro giovanile Giovanni Paolo II Soprattutto si mangia, si beve, grazie Ma non è vero! Offriamo tutto, quindi grandi buffet Ma non è vero! Menù alla carta Lui offre la carta Assolutamente, nei nostri corsi diamo tutto Regaliamo così, pasticcini, nocciolini Ma non è vero! GP2 è una cosa seria I corsi sono seri, sono per persone seri, attempate, preparate Persone che hanno una certa cultura, una certa preparazione Cioè, chi vuole ballare, vedere cinema di genere Corso stragolto, cinema di genere Chi vuole fare anche i tanzi a teatro Ma questa è pubblicità subliminale, per favore Non è vero, ma, veramente, per tutto Insomma, vediamo che si mangia gatti Si balla, si va cinema E poi non è vero Insomma, venite al GP2 Il GP2 Vicolo del Grottino 3B E venite da noi Incontriamoci al GP2 Venite a conoscere questo team Di parzi scatenati Loro Io so serio Scusa, mi chiedi lì di inizio Sinizia? Sì Vada più breve Aspetta Ciao 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 Grazie.